Ciao a tutti, volevo segnalarvi il centro team Vodafone di Luca Luzzi a San Gemini un centro team ma anche della Vodafone davvero attrezzato dove potete risolvere tutti i vostri problemi tecnologici potete a livello di operatore, potete acquistare delle sim, potete fare dei nuovi contratti, cambiare il gestore e quant'altro in più potete avere un minimo di assistenza telefonica perché Luca è anche preparato in questo quindi riesce a darvi una breve assistenza per il vostro smartphone e poi potete anche acquistare smartphone e pc quindi iPhone, Samsung eccetera e anche i notebook, i computer portatili quindi vi segnalo il centro team di Luca Luzzi che si trova a San Gemini un centro davvero fornito per scegliere il vostro nuovo iPhone ad esempio o per cambiare operatore o per risolvere il problema sim e quant'altro